Audi A6 è una berlina di assoluto rilievo, giunta addirittura alla sua ottava generazione e in grado di mantenersi sempre in vetta, ai desideri di numerosi automobilisti. In produzione dall'ormai lontano 1994, la vettura è diventata un autentico classico del settore e continua a sorprendere il proprio affezionato pubblico. Scoprite insieme a noi le informazioni più importanti sull'Audi A6, con la prospettiva di acquistare un simile modello a prezzi più che interessanti. L'aspetto esteriore dell'Audi A6. L'Audi A6 si fa apprezzare per un aspetto dalla forte personalità. Le sue misure sono davvero imponenti, con la lunghezza pari a 494 cm, la larghezza di 187 e l'altezza di 146. Una vera e propria auto di rappresentanza, dotata di un passo di 292 cm e impreziosita ulteriormente da un buon bagagliaio, dalla capienza di 520-530 litri. Dal primo momento nel quale vengono aperte le portiere, l'Audi A6 è capace di lasciarvi letteralmente senza fiato. La vettura tedesca può contare su una plancia altamente innovativa, con ben due monitor che consentono una corretta gestione del sistema di infotainment. Niente male neanche il cruscotto di ultima generazione, dalla funzionalità digitale, così cammo all'interno vengono utilizzati materiali di ottima qualità per rivestire l'abitacolo. Per quanto riguarda gli esterni, la voglia di sorprendervi, se possibile, è ancora superiore. Potete infatti ammirare un modello dalle linee fortemente sportive, oltre che altamente filanti. La classica calandra anteriore con quattro anelli rappresenta il tratto distintivo della vettura tedesca, così come i fari in LED. Mettono in evidenza una grinta fuori dal comune. La parte posteriore si lascia apprezzare per un esclusivo listello cromato e un design a sviluppo orizzontale dei gruppi ottici. I motori della gamma dell'Audi A6 La gamma dell'Audi A6 prevede la presenza di un insieme di motori ideali se avete intenzione di non generare un impatto elevato sa l'ambiente circostante. Attualmente, in listino sono presenti ben 7 propulsori ibridi. Due sono le proposte a benzina, ossia una da 2,0 litri, 4 cilindri e 245 cavalli e l'altra da 3,0 litri, 6 cilindri e 340 cavalli. Le altre 5 varianti funzionano per metà a gasolio e per metà con motore elettrico. Potete partire dalle 2,0, con le due declinazioni da 163 e 204 cavalli, e proseguire con le 3,0, le cui varianti vi garantiscono 6 cilindri e una potenza rispettiva di 231, 286 e 349 cavalli. Avete davvero solo l'imbarazzo della scelta all'interno di un insieme di proposte dalla qualità sicura e garantita. L'unità elettrica serve ad avviare il veicolo e, al tempo stesso, a recuperare una determinata quantità d'energia. Ai motori diesel V6 potete affiancare il cambio automatico da ben 8 rapporti. Per ciò che concerne i consumi, con i propulsori a benzina potete percorrere 100 km con 7-9 litri, mentre con quelli a gasolio potete fare fino a 22,7 km con un singolo litro. Gli allestimenti disponibili per l'Audi A6 Avete a vostra disposizione ben 6 allestimenti tra i quali scegliere per l'acquisto eventuale dell'Audi A6. Scoprite insieme a noi le prerogative di ciascuna versione, in modo che possiate selezionare quella che faccia maggiormente al caso vostro. Business è la variante di base, ma vi offre già una dotazione di serie davvero molto interessante. Interessante Il pannello di comandi nero opaco La leva del cambio con pomello in pelle Il volante sportivo In pelle Il supporto lombare elettrico dedicato ai sedili anteriori Business design costituisce il top di gamma assoluto e vi permette di usufruire di cerchi in lega a razze multiple Luce tecnica in led e un pacchetto in similpelle per la parte superiore degli interni della vettura Il prezzo dell'Audi A6 Se avete davvero il desiderio di acquistare Audi A6, sappiate che dovete disporre di risorse economiche abbastanza ingenti Se volete la versione ibrida a benzina meno prestazionale, ossia la 45 da 245 CV, è necessario che spendiate a partire da 57.050 euro Se volete la variante da 340 CV, i prezzi sono da 67.000 euro in su Se preferite l'ibrida a diesel, vi tocca partire dai 52.750 euro della 2,0 da 163 CV, per poi salire con i 54.850 di quella Da 204 CV, i 61.550 della 3,0 da 231 CV e i 63.300 della variante da 286 Se tutto ciò non vi basta e potete permettervi un autentico mostro di potenza e consumi, la 3,0 da 349 CV può essere vostra spendendo 80.450 euro In ogni caso, le opportunità interessanti non mancano per fare in modo che voi possiate vivere un'esperienza di guida tutta da ricordare A bordo di una vettura tedesca diventata storica nel proprio segmento specifico Ciò che conta è che teniate d'occhio il budget che avete intenzione di investire e consideriate la dotazione di serie di ogni esemplare Per fare l'offerta giusta è acquisire una vettura dalla qualità certificata Se vuoi risparmiare senza rinunciare alla qualità, prova a dare un'occhiata alle Audi usate disponibili sul nostro sito Per fare l'offerta giusta è un'occhiata di 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 un'